Non deve essere stato facile per Alfonso Leoni vivere nella faenza artistica del suo tempo con i magisteri importanti di Biancini e Zauli, ma anche per la stessa faenza non deve essere stato facile accogliere un artista e una personalità così effervescente, innovativa ed eccentrica. Per leggere il percorso artistico ed umano di Leoni dobbiamo partire dai suoi rari ma intensi scritti, ma soprattutto dal suo folle e prolifico lavoro. La mostra allestita presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza indaga attraverso 200 opere il percorso artistico e umano di Alfonso Leoni. Una meteora è una promessa dell'arte italiana precocemente scomparsa a soli 39 anni.